Il biglietto per la nostra festa dei supereroi sarà super divertente! Che cos'è? È lui! Chat Noir? Oh no! Devo scappare! Sto venendo a prenderti, amore mio! Ok, pensa, Chat, pensa! Dovrei apparire al meglio! Oh, ce l'ho fatta! Eccomi, tesoro! Oh, cielo, ma guardati! Oh no, qualcuno mi aiuti! Stai bene? Sì! Oh, cosa abbiamo qui? Un invito a una festa dei supereroi! Oh, devo partecipare! Vabbè, è stato epico! Oh oh, non ho tempo da perdere! Devo prepararmi il più velocemente possibile! Ok, ok, per prima cosa rinfreschiamoci! Mi farò un bel bagno rilassante! Ehi, smettile di sbirciare! E ora Super Abby è tornata in azione! Oh, l'acqua è davvero bella, eh! Cosa c'è di meglio di un bel bagno caldo? Un bel bagno caldo con una bomba da bagno! Ops! Oh oh, sembra che abbiamo esagerato! Aiuto! Sono bloccata nella schiuma! Cosa sta succedendo lì dentro? Oh, penso di avere un'idea! Mi chiedo cosa stia facendo quella piccola diavoletta! Signorina! Posso entrare? Oh, mi bruciano gli occhi! Oh, dov'è quello stupido asciugamano? Oh! Mamma! Cosa ci fai qui? Non ti arrabbierai, vero? Beh, non so cosa dire! La festa dei supereroi è proprio dietro l'angolo! Il che significa che dobbiamo esercitarci nelle nostre mosse! Wow, Chat Noir è davvero fantastico! Posso farlo anch'io? Oh! Cosa farò adesso? Ok, ci devono essere degli strumenti per risolvere questo problema! Andiamo, Abby, puoi farcela! Ecco qua! Ah! Ah! Cos'è stato? Oh! Oh! Immagino di essermelo immaginato! Wow! Guarda quei baffi! Ok, è il momento delle misure di emergenza! Non c'è nessun problema che le strisce di cera non possano gestire! Ci libereremo di quei peli in un batter d'occhio! Prima devo solo lavorare un po' con le forbici! Perfetto! Oh, cavolo! Non credo di poterlo fare! No! Posso! Oh! Bene, andiamo avanti! Questi orribili brufoli non devono stare sulla mia faccia! La pelle di Ladybug deve essere perfetta! Mmm! Queste patatine sono deliziose! Oh, lo so! Le userò come cerotti antibrufolo! Oh, oh! Qualcosa non va! Non posso permettermi le cicatrici da ustioni! E i brufoli! Risolviamo il problema con un po' di crema idratante! Abby, tesoro, fermati! Quella è salsa al tabasco! Ecco, questo andrà molto meglio! Grazie, mamma! Sei un vero salvavita! Oh, è fantastica! Fresca e rilassante! Oh, il tempo! Oh! 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 Chanoir ha appena pubblicato una nuova sfida! Allora, cosa ne pensate dei miei artigli? Sì, non posso davvero lasciare che la gente veda queste! Queste unghie finte risolveranno tutti i miei problemi! Semplicemente perfette! Oh, chissene! Dovrò pensare a qualcos'altro! Problemi complessi richiedono soluzioni complesse! Ecco qua! Molto meglio! Ora dovrei aggiungere un po' di colore! Wow, guarda quante opzioni! Oh, non so proprio cosa scegliere! Ciao a tutti! Ditemi nei commenti quali colori si adatterebbero meglio al Ladybug! Cici! Wow! Grazie per l'aiuto! Mi piace davvero questo rosso succoso! Elegante e trendy! Oh, quasi dimenticavo! I puntini neri aggiungeranno il tocco di coccinella alle mie unghie! Ecco di cosa sto parlando! La mia manicure da supereroina è completa! Wow! Ho messo like! Sono la ragazza più felice del mondo! Oh oh! Mi sono impigliata in qualcosa! Perché continuano a succedermi queste cose? Oh, perché non? Andare a quella festa con il mio vestito preferito fin da quando ero bambina! Oh sì, funzionerà! Dovrebbe essere qui da qualche parte! Eccoti, tesoro mio! Non riesco a ricordare l'ultima volta che ti ho indossato! Andiamo e proviamolo! Oh no! Non mi va più bene! Oh, che succede? Aiuto! Sono bloccata! Cosa c'è che non va, tesoro? Il mio stupido vestito non mi va bene! Va bene, calmati e fai un respiro profondo! Ecco qua! Un'altra volta! Non ce la faccio! Più! No! No! No, non ce la farò mai a questo ritmo! Non posso lasciare che la gente mi veda così! Niente panico, tesoro! Lascia che ti aiuti la mamma! Ok! I capelli blu sono nel look distintivo di Ladybug! È tempo di rinnovare il look! Il mio pennello è proprio qui! Ora è il momento di aggiungere la tinta! Spero davvero che funzioni! Non sarà così difficile! Oh cavolo, non vedo l'ora di vedere come usciranno! Ok, dovrei agire mentre Abby è distratta! Eccolo, il super costume di Ladybug! È assolutamente perfetto! Sono sempre stata la sua più grande fan! Alla mia Abby, starà benissimo! Bene, allora è ora di mettersi al lavoro! Sono sicura che adorerà il risultato! Tada! Fatto! Oh no! Accidentalmente ho usato la tinta rosa! Io non ce la faccio! Più! Aspetta un attimo! Da dove viene tutta quella roba? Oh, penso di aver capito! Beh, è ora che la aiuti! Calmati, cara! Guarda, ho preso qualcosa per il tuo problema! Parrucca in stile Ladybug! Carine! Beh, oh, questa non mi sta bene! Questa è meglio! Grazie, mamma! Ora manca solo il trucco! Primo passo, le labbra! Le mie labbra semplici, pallide, sottili! Meno male che ho un rimpolpante per labbra a portata di mano! Wow, guarda che volume extra! Ora applichiamo un po' di rossetto! Dici sul serio? Non esiste! Allora usiamo il rossetto nude! Non ti rispondo nemmeno! Allora forse... Rosso? Oh sì, è fantastico! Fantastico! Precisione è il mio secondo nome! Spero che piaccia anche a Chat Noir! Oh, è assolutamente perfetta! Ops! Beh, è stato imbarazzante! Dovrò rifare tutto adesso! Mamma, ho fatto ancora un casino! Oh, certo che ti aiuterò, tesoro! Prima di tutto, usiamo un po' di fondotinta per uniformare il tono della pelle! Poi lo lisciamo con una spugnetta da trucco! La mia pelle è di nuovo perfetta! Dopo è il momento di scolpire un po'! Queste terre metteranno in risalto i tuoi zigomi! E ora tiriamo fuori il rossetto rosso! Ora sembri una vera supereroina! E la mia maschera da supereroe? Solo un momento, cara! Cici, wow! Super cool! Oh no, sono già in ritardo! Cosa farò? Non sono ancora pronta! Ho davvero bisogno del vostro aiuto! Ogni like che mi manderete mi darà un po' più di tempo! Grazie, siete i migliori! Ecco, ti ho preso un piccolo regalo! È il super costume di Ladybug! Non ci posso credere! Penso che mi stia proprio bene! Oh, sei assolutamente fantastica! E ora è il momento di correre a quella festa! Finalmente ce l'ho fatta! Oh cavolo, tutto questo mi rende così nervosa! Andiamo, Abby! Oh, fallo e basta! Sai che ore sono? Io sono qui per la festa! Ma la festa è domani! Sembra che tu sia un po' troppo impaziente, eh? Credo di aver fatto di nuovo un pasticcio! Aspetta, Ladybug! Aspetta qui, torno subito! Certo! Oh, che velocità! Allora, vuoi uscire con me? Sì, assolutamente! Allora andiamo a prenderci una pizza! Oh, crescono così in fretta! Oh, sì, nessuno può fermarmi adesso! Ne sei sicuro? Arrenditi cattivo! Esatto! Alza le mani! Oh, di nuovo quel piccolo insetto! Scusa, devo andare! Ehi, dove stai andando? Ops! Qualcuno mi aiuti! Oh, finalmente! Ehi, sta mangiando! Sembra che Dracula abbia ascoltato le mie preghiere! È ora di un po' di sangue fresco! Per favore, non mangiarmi! Sembra che tu sia finita, Ladybug! Ehi, non è giusto! Allora, come sta la nostra paziente? Oh, non è un buon segno! Eh, in coma! È ora di cena! Non aspettavo ospiti oggi! È stata tutta colpa mia, amica! Mi dispiace tanto per questo! Ladybug? Sei viva? Sangue! Bene, sono pieno adesso! Ci vediamo! Come ti senti, amica? Strana! E vai! Significa che puoi essere di nuovo un'eroina! L'avevi quasi battuto, Ladybug! Sei sicura di stare bene? All'improvviso ho molta fame! Allora, andiamo in un bar! Oh, mi piace già qui! So che sei ancora viva, Ladybug! Ma non preoccuparti! Prima o poi ti prenderò! Aha! Beccata! Cosa scegliere? Uh, che ne dici di un hamburger? Sembra delizioso! Certo! Offro io! Oh, forse dovrei mangiare una bistecca! Sì, esatto! Una bistecca! Oh no! A cosa sto pensando? Non posso mangiare la mia amica Mabie! Eh, hai ordinato un cocktail? Oh, ciao! Da dove vieni? Sono qui per servirti! Portami Ladybug! Ecco, ti serviranno questi! Congratulazioni! Siete le nostre milionesime clienti! Ecco il premio! Fai Ladybug! Sì! Adesso un altro palloncino! È molto divertente! Mi chiedo cosa abbiamo qui! Oh oh! Ah ah! Sei finita Ladybug! No, non lo sono! Hmm... Bene! Ora finalmente posso mangiare! La fine è vicina! Oh! Non puoi nasconderti da me Ladybug! Fai come a casa tua? Ti piace qui? Beh, non esattamente! Abbiamo bisogno dei letti! Hai ragione! Andiamo! Mettiamoci al lavoro! Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono dei chiodi, un martello e un po' di creatività! Fatto! E aggiungiamo un pizzico di nero! Ottima idea, amica! Oh, c'è ancora qualcosa che non va! Ehi, dove stai andando? Prenderò questo posto un po' più accogliente! Sei sicura che funzionerà? Ecco, questo è un letto perfetto per un vampiro! E ora gli ultimi ritocchi! Questi puami porteranno sicuramente fortuna! Anche io ho finito con il mio letto! Uh, sei giusto in tempo, Fluffy! È proprio ciò di cui avevo bisogno! Wow, sinistro ed elegante! Beh, sogni d'oro, amica! Nel frattempo darò un'occhiata al mio canale preferito! Torna qui, materassino! Mi serve per dormire! Ladybug, aiuto! Oh, che succede questa volta, Mavy? Il mio letto! Seguimi! Ecco, adesso prenderei sonno! Buonanotte! Ah! Oh, con te è sempre lo stesso! Cosa? È già mattina! Così non va! Sembra che tu abbia bisogno di un vestito nuovo, amica! Ti aiuterò! Beh? Ti piace? Sì! Sono l'eroina che questa città merita! Ehi, quello è mio! Un insetto non potrà mai diventare un pipistrello! Oh, oh! Non funzionerà, Mavy! Allora dobbiamo pensare a qualcos'altro! Qualcosa tipo... Questo, forse! Sarai benissimo, Ladybug! Volerò tra le nuvole! Una corsa contro il vento! Oh! Per favore, non ora! Questo non è il mio stile! Oh, lo so! Diamo al tuo vecchio outfit un tocco da vampiro! Sarà davvero fantastico, vero? Possiamo farcela! Ehi, non intralciarmi! Lascia lavorare la professionissa! Adesso sbrigati a provarlo! Sei fantastica, amica! E ora è finalmente il momento di uscire e fare il nostro lavoro! Perché non cerchiamo qualche crimine da combattere? Oppure dovremmo fare uno spuntino? Il sole! Brucia! Aspetta, amica! Arrivo subito! Ehi, dove stai andando? Aspetta! Qualcuno! Spenga questa luce! Ah! Oh, è davvero imbarazzante! Sei il peggior vampiro di sempre! Ehi, va tutto bene? Non toccarmi! Non dirmi che hai dimenticato di mettere la crema solare! Un vampiro non può permettersi di essere così sbadato! Molto meglio! Ehi, che ne dici di scusarti? Hai detto qualcosa? No, stavo giusto andando via! Oh, guarda! Stanno organizzando una festa Ladybug! Dobbiamo assolutamente andarci! Non sono ammesse feste! Dai, per favore! Come puoi dirmi di no? Ok! Ci divertiremo tantissimo! Ecco il posto! C'è ancora un problema! Non hai le zanne! E questa è una festa per soli vampiri! Dammi solo un attimo! Ci penso io! Ecco, cosa ne pensi? Andiamo! Allora è così che fanno festa i vampiri, eh? Ciao! Ah, sembri un po' sospetta! Cosa? Sono un vampiro! Guarda! Allora, diamo inizio a questa festa! Andiamo! Devi assaggiarlo! Quello è... Sangue! Non ce la faccio! Puoi prenderlo tu, fiorellino! E ora che ne dite di un selfie? Diteci! Ehi, guardate come stiamo bene insieme! Sembra che il gioco sia finito! Quindi le tue zanne sono finite, eh? Oh, andiamo! Sono assolutamente reali! No, va bene! Non facciamo nulla di avventato! Vieni qui, impostore! Hmm... Oh beh! L'hai voluta tu! Ah! Siete finiti adesso! Dobbiamo scappare! Anche se... Ho un'ideale di bug! Non potrete mai batterci! Te ne pentirai! È stato fantastico! Ehi, cerchiamo un'altra festa a cui partecipare! Ecco, Mavy! Questo è per te! Cos'è? È un pulsante di allarme! Riceverò un avviso ogni volta che lo premi! Ci vediamo stasera! Proviamo questa cosa! Non usarlo senza motivo, Mavy! Eccomi! Siete pronti per il test di oggi? Allora, cominciamo! Oh no! Sono preparata! Ciao, bellezza! Mi sei mancata tanto! Ladybug, questa è un'emergenza! Aiutami! Oh no! Mi viene guai! Devo andare! Silenzio in classe! Oh cosa c'è che non va, amica? C'è qualcosa di veramente sbagliato nei suoi denti! Qualcuno dovrebbe prendersi più cura della propria igiene orale! Che ne dici di... Sei un genio, Ladybug! Hai sistemato tutto! Bene, sono tornata! Non così in fretta, signorina! Hai fallito il test! Ma non voglio prendere una F! Per favore, puoi cambiare idea! Ho fatto un errore! Tu meriti una A! I poteri da vampiro sono tornati davvero utili oggi! Questa è la mia borsa! Ridammela! Oh, questa è la mia occasione! Vola, mio piccolo Akuma! Vola! Dove ho lasciato il pulsante di emergenza? Nessuno verrà a salvarti! La tua roba è mia adesso! Oh, ciao, piccoletto! Sono al tuo servizio! E tu dovresti andare! Vai, distruggi Ladybug per me! Non ti deluderò! C'è qualcuno in casa? Oh, nonna Bug! Sei qui! Ho tante cose da raccontarti! Oh, discutiamone davanti a una bella tazza di tè, ok? Oh, mio Dio! Cos'è? Oh, non preoccuparti, nonna! Fai finta di non aver visto niente, ok? Se lo dici tu, tesoro! Scusate se sono venuta senza preavviso! Belle, Ladybug! Ah! Oh, non pensare che questo mi fermerà! Ti ho portato un piccolo regalo! Oh, è così dolce da parte tua, ma... Sono un po' allergica alle mele! Ah, che male! Chi è là? Ci sei adesso! Tieni duro, Mabie! Che ragazzina cattiva e maleducata! Ti insegnerò le buone maniere! Non lo sapevo! Dietro c'è Papillon! Oh, mi sono appisolata un attimo! Sembra che tu abbia vinto ancora, Ladybug! Sei finito, Papillon! Ormai non sei stufo di tutta questa malvagità! È ora di darti una lezione! Aspetta, Mary! Lascia che se ne occupi un vampiro! Stai indietro e guarda! Risolviamo la questione una volta per tutte, Ladybug! Sì, giusto! Cosa ne pensi? Ehi, torna qui! La cena è servita! Fermati, ti sto perdendo! Wow, eri così sinistra! Oh, cosa è successo? Sono zanne? Oh, penso che potrei abituarmici! Finalmente ce l'abbiamo fatta, tesoro! Oh, questo posto è davvero carino! Benvenuti! Volete vedere il menù? Oh, non sarà necessario, cara! Oh, per favore non farlo! Guarda che delizioso bocconcino, Mary! Oh, ma cosa abbiamo qui? Penso che stia cercando dei nuovi genitori, Ada! Sì, è vero! Potreste diventare voi i miei genitori! Oh, certo che possiamo! Assolutamente sì! Vieni con noi! Basta, non sono ammessi i vampiri qui! State lontano d'ora in poi! Non è pericoloso! Possiamo prendere un taxi! Ma è bellissimo! Questo viaggio è fantastico! Eccoci! Cosa ne pensi di questo posto? È bellissimo! È una vera sana di vampiri! Non ha mai visto niente del genere! Liana, dove sei? La nostra casa può essere davvero pericolosa! Ciao, piccoletta! Che male! Mamma, papà! Sono un po' bloccata qui! Dobbiamo sbrigarci, Ada! Lasciami andare! Ti aiuterò, tesoro! Dai, dai, ancora un po'! Lascia andare nostra figlia! Adesso va meglio! Mamma vampiro ha salvato la situazione! Oh, dove sono? Liana cerca di stare più attenta! Mamma, papà! Sono qui! Chi sei tu? Ah! C'è qualcosa! Oh, non preoccuparti, tesoro! Oh, proprio quello di cui abbiamo bisogno! Rispolveriamo questa vecchia cosa! E facciamo un po' di magia! Ecco il rituale giusto! Invoco l'antica magia di Dracula! Andrà tutto bene! Tua mamma è una vaga esperta! Oh, questo incantesimo non mi delude mai! Beh, va meglio ora, vero? Sì, e anche il nuovo letto! È stato fantastico! Non dimenticare il tuo amico peloso! Grazie, mamma! Oh, è così morbido e soffice! Ci vediamo domattina! Sogni d'ora, tesoro! Parliamo dell'argomento di oggi? Guarda quella perdente! Sai almeno quanto sei brutta! Perché non ti trovi in una classe di brutti perdenti da frequentare? Perché siete così cattivi? Smettetela di prendermi in giro! Onestamente, Liana, dovresti davvero farti un restyling! No, non sono una perdente! Calma, filiana! Non sono una perdente! Mamma, mi dispiace tanto! Non volevo! Loro può essere davvero pericoloso! Oh, che colpo, tesoro! Lasciati fasciare, mamma! Buongiorno a tutti! Cosa c'è per colazione? La colazione di oggi è una sorpresa! Ti piacerà, tesoro? Eh, non lo so! Avanti, mangia! Grazie! Buon appetito, Liana! Di cosa hai fatto? Aspetta, penso di aver dimenticato una cosa! Il latte! Ora la colazione è finalmente servita! Mangia! Non tocco quella roba! Non è cibo umano! Adam, la nostra ragazza ha fame! Non preoccuparti, tesoro! Dovremmo avere del cibo umano da qualche parte! Oh, giusto! Lì! Siamo dei genitori terribili! No, non lo siamo! Possiamo darle un po' di quel delizioso sangue! Ma Liana non è un vampiro! Vorrei la pizza più grande, per favore! Ok, stop! Penseremo a qualcosa, tesoro promesso! Dammi solo dei soldi! Oh, certo! Ora va meglio! Torno tra un minuto! Cosa vuole fare, Adam? Sono tornata! Vi ho portato la pizza! Questa salsa all'aglio è deliziosa! Tutto tranne quello! Siamo mortalmente allergici all'aglio! La pizza è un ottimo piatto per la colazione! Questa è la fine per noi, tesoro! Ci servono le nostre mascherine! Andiamo! Oh, siamo salvi! Scusate! D'ora in poi mi ricorderò di tenere lontano l'aglio! È tranquillo! Troppo tranquillo! Liana! Che stai combinando? Dov'è mia figlia? Sono Liana! Questo trucco mi sta bene, vero? Oh, è un disastro! Mamma, va tutto bene? Sì, sì, sto bene, solo che... Oh, seguimi! Dove stiamo andando, mamma? Lo scoprirai! Ok, deve essere qui da qualche parte! L'ho trovata! È inutile cercare di nascondersi da me! Vai, esci! Qualcuno ha bisogno di un restyling? Courtney, piacere di rivederti! Mamma, è una vampira zombie? Certo che sì! Courtney, basta perdere tempo! Puoi metterti al lavoro! Il mio look è piuttosto cool, eh? Sarà complicato! Caratteristico pallore vampiresco raggiunto! E poi? È il tuo momento di brillare, amica! Dobbiamo salvare questa ragazza da se stessa! Wow, adoro quello che stai facendo! Non avevo dubbi! Ma non abbiamo ancora finito! Ora useremo questi ragazzini! Mi sto innervosendo! Guarda il risultato! Oh, fantastico! Il trucco è un'arte molto delicata! Sei assolutamente sbalorditiva, Liana! Non posso credere a quanto sono carina! Ma vorrei averne uno! Hai fatto un ottimo lavoro! Ecco e tieni il resto! Amo il mio lavoro! Sono felice di vederti, Liana! Stai benissimo oggi! Che giornata meravigliosa! Ma dov'è Liana? Immagino sia fuori in cortile! Cosa? Un appuntamento? Dovrete passare sopra il mio corpo non morto! Quel ragazzo è troppo suscettibile! Non preoccuparti, Liana! La mamma sta venendo a salvarti! Vediamo cosa ne pensi, amico! Meglio fare attenzione! Tieni, Liana! Oh, grazie! È così dolce! È un dardo di balestra! È solo mia madre che scherza! Tua madre? Ah, l'ho mancato! Serve un approccio diverso! Ma prima devo proteggermi dal sole! Stai bene, Mary! Ora andiamo! Vuoi del gelato? Offro io! Grazie, Raya! Ecco i piccioncini! Vediamo se ti piace il gelato! Mi sto davvero godendo il nostro appuntamento, Liana! Raya, tu sei... Non hai un bell'aspetto! Sembra che tu sia stato avvelenato! Addio, amore mio! Non ti dimenticherò mai! Calmati, tesoro! Mamma 1, fidanzato 0! Dai, ti riportiamo a casa! Sono davvero contenta di essere tornata a scuola! Qual è l'argomento di oggi? Oggi faremo un test, ragazzi e ragazze! Non perdete altro tempo e mettetevi al lavoro! Un test! Ma non sono pronta! Questa roba è facile! Immagino di essere nei guai! Ok, pensa, Liana, pensa! Megan, puoi aiutarmi? Assolutamente no! Non parlate, per favore! Concentratevi sul test! Oh, l'hai voluta tu! Ok, ho un'idea! Andiamo, Megan! Per favore, aiutami a copiare! Non pensarci nemmeno! Oh, non è giusto! Di questo passo fallirò! Ma non mi arrenderò così facilmente! È ora di insegnarti a condividere, Megan! Liana! Stavo solo... Temo che prenderai F! Mamma e papà saranno arrabbiatissimi! Aspetta, è vero! I miei genitori sono vampiri! Dovrei semplicemente chiedere aiuto alla mamma! Cosa c'è che non va, tesoro? Il nostro insegnante mi ha dato F! Oh, come osa trattare così la mia ragazza! Non facciamo niente di avventato, signora! Non farà male! La mia dolce, Liana, è l'orgoglio della tua classe! Sì, lei merita! A più! Oh, è il mio test! A più! Grazie mille, mamma! Mi hai davvero aiutata! Posso fare uno spuntino, mamma? Ricorda, Liana! Troppi dolci fanno male ai denti! Quindi ok, ma solo uno! Mmm, delizioso! Il mio dente! Quello era il mio preferito! Ti avevo avvertita, tesoro! Devi aiutarmi a risolvere questo problema, mamma! Sbrigiamoci e andiamo dal dentista! Qual è il problema? Ho perso un dente! Ti daremo una zanna nuova di zecca! Esatto, scegli pure! Mmm, no! Allora, dai un'occhiata a questi! Carini, eh? Sono in oro massiccio! Assolutamente no! E questa? Wow! Lo so, vero? È splendente! Ti sta proprio bene, Liana! Ricorda, quella zanna è piuttosto costosa! Oh, certo! Me ne occuperò io! Cavolo, sono proprio affamata! Ehi, che cosa sta succedendo? Buon compleanno, Liana! Oh, grazie! Sai esattamente cosa desiderare! Allora, diamo inizio a questa festa! Wow, una pignatta! Voglio colpirla subito! Vai, tesoro! Puoi farcela! Oh, attenta! Liana! Rallenta un po'! Oh, così non va! Dammi una mano qui, Adam! Subito, Mary! Mamma! Papà! Cosa fate? Sono per te, tesoro! Ma perché dovrei averne bisogno? Paggia scoprirlo! Ah! Sono! Sono! Adesso sono un vampiro! Da dove vengono tutti quei brufoli? Pensavo che i vampiri fossero sempre impeccabili! Paglia! La tua?